L'Italia calcistica è in fibrillazione per il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il campione del Real Madrid, 5 volte pallone d'oro, è il sogno della Juventus, disposta a sborsare centinaia di milioni di euro pur di averlo. Ma nelle chiese c'è chi ha già convinto CR7, bruciando i bianconeri sul tempo. Un grande colpo, a maggior ragione perché stavolta la posta in gioco è più alta persino di un mondiale, la vita delle persone. La firma è arrivata, così come il comunicato ufficiale. È con grande orgoglio e con profonda convinzione che Abis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trappelate a giugno, annuncia a mezzo stampa la partnership che legherà il sodalizio al più grande fenomeno ancora in attività a livello calcistico, il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo. Una grande opportunità, spiega l'associazione bellanese, che è stata colta dai due consiglieri Marco Alberto Bianchi e Mario Passador, che dopo i primi contatti intercorsi con la multinazionale farmaceutica Abbott, detentrice dei diritti per questa campagna di incremento delle donazioni a livello mondiale e i legali che curano l'immagine di CR7, hanno gettato le basi per questa prestigiosissima partnership. Be The One è il logo slogan con cui Cristiano Ronaldo invita tutti a essere protagonisti di un gesto che lui compie da molti anni, donare sangue. Esprime la sua soddisfazione anche il presidente di Avis Bellano, Carlo Molteni, che con l'aiuto di tutti gli otto gruppi della comunale, ricordiamo infatti che assieme a Bellano vi sono anche Dervio, Dorio e Valvarrone, Premana, Pagnona, Marnio, Introvio, Colico, Valdesino, intende estendere il più possibile questa occasione importante per incrementare il numero di donatori. L'immagine di Cristiano Ronaldo sarà associata al logo dell'Avis sui nuovi striscioni dei gruppi, con i contatti per diventare donatori, oltre che su un pullman di linea. Inoltre apparirà presto sul sito internet e su tutti i social un filmato con protagonista proprio il grande attaccante.